Buongiorno vegan boys e vegan girls, in questo video apprenderemo i tre pilastri fondamentali del culturismo. Allora prima di iniziare ho due cose da dirvi, innanzitutto mi scuso per la location ma in questo periodo sono molto stressato, molto impegnato, ho veramente poco tempo quindi ho un'ora di buco in attesa qui in macchina quindi posso approfittare per registrare questo video. Seconda cosa molto importante assicuratevi oltre ad esservi iscritti al canale che ci sia la campanella attivata per le notifiche. Allora l'idea di questo video è nata dal fatto che spesso le domande e i quesiti che voi mi ponete girano sempre attorno a come fare per sviluppare la massa muscolare, come fare per dimagrire, come bilanciare la dieta, quante proteine assumere, come fare per migliorare la circolazione, molte donne mi chiedono come migliorare la cellulite, le bucce d'arancia, la ritenzione idrica, come reattivare il metabolismo, insomma una serie di argomentazioni che ruotano sempre attorno a questi tre pilastri fondamentali del culturismo. Quali sono? Vediamoli insieme. Primo, alimentazione. Secondo, allenamento. Terzo, stile di vita. Noi tendiamo, abbiamo una capacità a complicarci le cose soprattutto nel mondo del fitness. Spesso si tende ad andare ad analizzare degli aspetti che sono di contorno, sono secondari. Dovremmo piuttosto concentrarci sui fondamentali. Primo pilastro fondamentale è l'alimentazione. Per alimentazione non mi addentrerò nella scelta dei singoli alimenti ma nella strategia da utilizzare, ovvero il passo fondamentale è quello di stabilire quello che il nostro fa bisogno. Quindi è molto importante capire qual è il volume del dispendio energetico giornaliero e settimanale perché sulla base di questo noi poi possiamo calcolare quello che dobbiamo introdurre attraverso l'alimentazione per il nostro obiettivo, per le nostre caratteristiche. Quindi se io svolgerò un'attività fisica media di tre allenamenti settimanali io so che dovrò introdurre un introito calorico pari al mio obiettivo. Quindi se voglio mantenermi, se voglio sviluppare massa muscolare quindi ho raggiunto un certo livello di composizione corporea e quindi decido di incrementare il surplus energetico per indurre uno sviluppo della massa muscolare. Se invece io ho qualche chilo di troppo che poi ragazzi diciamocelo è un po' la condizione più frequente cercare di migliorare la composizione corporea, perdere quei chili di troppo e le famose maniglie dell'amore. Quindi la prima strategia importante da attuare è quella di stabilire un fabbisogno giornaliero, stilare quindi un programma preciso da seguire con precisione e analizzare di settimana in settimana quanto noi riusciamo a stare sul programma evitando i fuori pasto. Sì ovviamente l'approccio deve essere sempre sostenibile, io non sono per degli approcci troppo rigidi, non solo è più facile seguirlo ma non ci crea quell'effetto molla che è molto fastidioso ed è molto frequente in chi si approccia alla dieta. Spesso una persona con forte sovrappeso tende a fare a seguire delle diete troppo rigide quindi per un periodo non segue una dieta poi tutto a un tratto non mangia più niente e fa la fame. Cosa succede? Perderà i suoi chili in quel determinato lasso di tempo ma poi li andrà a recuperare. Quindi molto meglio seguire un approccio sostenibile che non ci crei degli scompensi anche a livello mentale poi di conseguenza riuscire a portarlo avanti nel tempo. Secondo pilastro fondamentale è l'allenamento. Sull'allenamento ragazzi avremmo da parlare tantissimo. Io mi limiterò come ho fatto per l'alimentazione a darvi un'infarinatura generale. Sull'allenamento c'è tanta confusione. Ognuno dice la sua però per quanto esistano svariati protocolli ricordiamoci qual è il punto nevralgico ovvero la progressione dei carichi. Cioè noi a patto di seguire una tecnica precisa che sia minimo sufficiente per preservarci dagli infortuni ma anche per massimizzare i risultati. Andare a spingere un peso dal punto A al punto B non è sufficiente. Dobbiamo comprendere il concetto di connessione con il muscolo. Sentire il muscolo che lavora sotto tensione. Rispettato questo concetto base noi possiamo seguire diversi approcci. È sempre necessaria una programmazione semestrale annuale per avere un risultato concreto sempre da adeguare ai nostri obiettivi. Quindi è importante pianificare l'arco annuale perché ovviamente durante l'anno ci sono diverse esigenze, momenti di incremento della massa muscolare, momenti di dimagrimento. Quindi il tutto andrà adeguato tra alimentazione e allenamento. Ovviamente la parte più importante, la parte che incide maggiormente nella composizione corporea è l'alimentazione ragazzi. Dimentichiamoci che un allenamento possa determinare il dimagrimento o lo sviluppo della massa muscolare. Sì ok ci sono degli allenamenti che si sposano meglio con quel tipo di obiettivo ma è l'alimentazione che fa veramente la differenza se vogliamo sviluppare o soprattutto se vogliamo dimagrire. Sull'allenamento però voglio precisare alcune cose. Un neofita per esempio dovrebbe concentrarsi in primis sui fondamentali, sull'apprendimento dei gesti motori più importanti. Quindi parliamo di stacco, di squat, di panca, di rematore, di trazioni oppure di gesti olimpionici come lo strappo, come lo slancio. Lavorare quindi sui fondamentali e ricercare quella progressione del carico. Il neofita non dovrebbe perdersi in troppe chiacchiere, troppe metodiche di intensità. Dovrebbe principalmente puntare alla costruzione della massa muscolare, della struttura base che poi ci porteremo nel tempo. La persona che comunque si allena già da tempo, che è comunque un intermedio, che comunque abbia un minimo di anni di esperienza, parlo di uno o di due anni, allora potrebbe orientarsi su un tipo di approccio finalizzato all'ipertrofia. Ma ricordiamoci sempre la base gesto motorio, progressione del carico. Così come poi l'avanzato sicuramente dopo che avrà costruito le proprie fondamenta, lavorerà soprattutto sui dettagli, avrà una percezione massima dello stimolo, quindi lavorerà soprattutto su quello. Il terzo pilastro fondamentale della cultura fisica è rappresentato dallo stile di vita. Cosa intendiamo per stile di vita? Innanzitutto tutto quello che riguarda le abitudini corrette, le abitudini sane da seguire. Quindi evitare il fumo, evitare l'alcol, evitare di non dormire la notte. Il riposo è fondamentale. Bere bibite gasate, per esempio, in una persona che ha seguito un percorso di dimagrimento, va a pregiudicare tutti i risultati ottenuti. Quindi il concetto di culturismo, per quanto mi riguarda, non è soltanto quello di costruire un fisico bello e performante, ma un fisico sano, un organismo che funziona e che ha delle prestazioni nettamente migliori a chi non segue delle abitudini corrette. Io sono contrario a tutto quello che va ad alterare il naturale e meraviglioso equilibrio del nostro corpo. Altri parametri da seguire per uno stile di vita corretto sono la respirazione, ragazzi. Noi non sappiamo respirare. Abbiamo questa caratteristica, cioè quello di respirare, anche di avere questa postura con il petto bello sempre pieno, quindi una respirazione soprattutto superiore della cassa toracica. Invece noi dovremmo imparare a respirare con il diaframma, quindi la cosiddetta respirazione profonda. Segnatevi questi numerini 1, 4, 2. Sono praticamente le proporzioni di secondi da seguire per effettuare questo esercizio che voi potrete applicare per tre volte al giorno, anche soltanto dieci giorni. Bastano a farvi capire i benefici di questo tipo di respirazione. Benefici in termini energetici, benefici in termini di anche, come dire, pulizia del corpo, pulizia dalle tossine che noi accumuliamo giorno per giorno. Provate a farlo anche in un periodo di raffreddamento in cui avete un po' di muco. Vedrete che vi aiuterà molto ad espettorare questo tipo di respirazione e anche chiamato aspirapolvere, proprio perché ci libera dalle tossine che noi accumuliamo giorno per giorno. 1, 4, 2 sta per i multipli, quindi i secondi di inspirazione, i secondi di trattenuta del respiro, i secondi di espirazione, cioè quando noi buttiamo fuori l'aria. Quindi per esempio un protocollo semplice che per esempio possono applicare tutti è 3, 12, 6. Quindi 3 secondi di ispirazione, 12 di trattenuta e 6 di espirazione. Se provate a farlo scrivete nei commenti come vi siete trovati e che sensazione avete avuto. Vedrete in pochi giorni, in dieci giorni avrete dei risultati veramente strabilianti. Altro punto fondamentale che riguarda lo stile di vita, l'idratazione. Perché è importante l'idratazione? Perché il nostro corpo espelle fino a due litri e mezzo al giorno d'acqua, poi in periodi tipo estivi ancora di più. È molto importante perché senza idratazione è come se noi togliessimo il carburante, alle ossa e alle articolazioni per permettere al corpo di svolgere i propri movimenti. Noi possiamo introdurre i liquidi non solo dall'acqua, dalle bevande, dal tè, ma soprattutto anche dal cibo. Consumare per esempio della frutta, o meglio ancora degli estratti, contribuisce al raggiungimento di liquidi prestabiliti per il fabbisogno giornaliero. Un altro punto fondamentale è l'atteggiamento mentale. Fa anche rima ragazzi, ma vi assicuro che è forse la chiave di volta, è forse il segreto più importante di tutti, ovvero il nostro focus, l'obiettivo che noi ci vogliamo porre. Voi sapete benissimo che corpo e mente sono strettamente legati. Sono strettamente legati, infatti noi vediamo che spesso e volentieri abbiamo un cattivo rapporto con il cibo, un rapporto non equilibrato. Ci sono tante persone che soffrono di disturbi alimentari come l'anoressia, la bulimia, il binge eating, quindi le abbuffate. In realtà abbiamo dato un nome, abbiamo etichettato queste abitudini, ma quanti di noi dopo un periodo restrittivo di dieta si buttano sul cibo a capofitto? Si vorrebbero divorare qualsiasi cosa? In realtà tutto questo non è sano, non è neanche sano seguire delle diete troppo restrittive, iperproteiche, senza carboidrati, che veramente ci fanno sbarellare. Ecco che noi capiamo quanto sia importante avere dei pensieri positivi, dei pensieri costruttivi e non dei pensieri distruttivi. Questo è un punto su cui lavorare. Se noi partiamo da zero, desideriamo arrivare ad un punto, raggiungere il livello fisico di un amico, il punto di riferimento è quello di un modello, di un ragazzo o di una ragazza che noi vediamo su una rivista o che vediamo su Facebook. Bene ragazzi, allora se noi partiamo già sconfitti, no io non arriverò mai a quel livello, per me sarà un'impresa impossibile, beh abbiamo già perso. Se noi invece ci mettiamo nell'ottica del raggiungimento di quell'obiettivo, addirittura se dentro di noi c'è già quella convinzione, seppur non concreta, non reale in quel momento, di raggiungere un dato obiettivo, noi lo raggiungeremo. Si chiama anche legge dell'attrazione, chi ha letto i vari libri The Secret, comunque dello stesso filone, saprà bene di cosa parlo. Guardare ogni giorno a quello che stiamo raggiungendo, anche soltanto il fatto di iniziare a pensare, di voler attuare una strategia, di iniziare a prenderci cura del nostro corpo, bene quello ragazzi è un ottimo passo, quello è il primo passo fondamentale. Quindi pensieri puliti significano risultati più rapidi e più veloci, pensieri negativi significa perdere tempo durante il nostro percorso, perché significherà anche farci abbattere da qualche minimo ostacolo che incontreremo, perché ragazzi per questo percorso ci vuole tanta pazienza, tanto impegno e tanto sacrificio. Non c'è niente di rapido come vi fanno vedere nelle pubblicità, degli addominali scolpiti, del marketing, quella comunicazione per cercare di prendere i polli, cercare di vendere dei prodotti. La realtà è un'altra, è fatta di questi pilastri, è fatta di seguire uno stile di vita serio, solido e che ci dia un risultato concreto nel tempo. Ovviamente è un argomento molto vasto che richiede tanto tempo per poterne parlare, poterlo sviscerare al meglio. Comunque spero di avervi chiarito alcuni aspetti, intanto voi scrivetemi nei commenti se avete altri dubbi, se qualcosa non è stata abbastanza chiara e magari ne parleremo nei prossimi video. Mi raccomando mettete un bel pollice in su e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!